La causa del 2-1 subito dal Torino va ricercata a nostro avviso soprattutto nell'assenza di due uomini chiave, Pecci e Claudio Sala. Per i campioni d'Italia disputare un incontro di portata europea senza le due pedine forse più importanti è stato un handicap troppo pesante. Da qualche parte si criticano oggi le scelte tecniche di radice, non già per avere impiegato Garitano fin dall'inizio, ma per avere sostituito Claudio Sala con Pulici quando il capitano è stato costretto a uscire. Forse si poteva impiegare Gorin, avanzare Salvadori in mediana e avanzare a sua volta Patrizio Sala nel ruolo di Claudio Sala, ma è sin troppo facile criticare a posteriori perché invece se il Torino avesse vinto adesso l'impiego di Pulici al posto di Sala verrebbe approvato come la mossa vincente. I Granata si sono impegnati tutti al massimo, hanno costruito azioni pericolose, sono anche stati sfortunati colpendo un palo con Zaccarelli. E poi si è visto un Borussia forte e...